Ups a tutti e tutte, miei cari upsini upsine, come, 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 come state? Spero bene, dai, io in realtà in questo momento ho un po' mal di gola e sono un po' raffreddato, però questo non ci ferma dal registrare, eh già. Allora, nel video di oggi vorrei proprio fare in modo che i tuoi occhi si rilassassero, ecco, vorrei che appunto riuscissi a far rilassare i tuoi occhi. Io farò diverse cosettine che spero appunto ti faranno addormentare, ecco. Perciò indossa subito un paio di cuffie o auricolari, stenditi sul tuo letto e cerca di dormire, va bene? Io come sempre spero che non ci sia troppo caos in sottofondo, anche se però devo dire che sento un rumore e non riesco a capire da dove proviene, però vabbè, spero non si senta, ecco. Ma vabbè. Allora, nel video di oggi, che adesso comincio, quindi mi raccomando indosso un paio di cuffie o auricolari, così puoi sentire bene, bene, tutto quanto. Vorrei partire facendo del tracing di qualche parolina che ne dici. Perfetto, allora io partirei con la prima, tu stai attento o attenta a quello che fa il mio dito. Qui. G. O. B. E. C. E. 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 coperta coperta prossima parola letto 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 io già mi sto addormentando terza parola indovinare le lettere stavolta perfetto perfetto sondo 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 s 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 trades il mio dito, io lo muoverò un po', tu osserva il mio dito questo qui e seguilo con lo sguardo, seguilo con lo sguardo, dimmi quanto esce fuori dall'inquadratura, perfetto, adesso lo rifacciamo, ma stavolta segui questo dito qua, perfetto, continua a seguirlo, e via, perfetto, adesso vorrei toccarti un po' il viso, così, tac, 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 farti un po' di carezza, ecco, carezza, 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 oddio, ho qualcosa nell'occhio, vabbè, toccarti, 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 un po' il viso, perfetto, e fare anche un po' di tapping sul tuo viso, diciamo, fare un po' di... di tipo 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 di Perfetto Adesso un'ultima cosa che voglio fare prima di passare ad altro E Aiuto Testare un po' la tua vista periferica Perciò di nuovo Concentrati sul mio naso Io adesso mi metterò qua al centro E avrò le mie mani qui E Tu che cosa dovrai fare? Io alzerò Un dito così Tu dovrai dirmi Se ho alzato il dito Nella mano sinistra O nella mano destra Quindi sinistra Destra Magari anche in trombi Perciò Osserva il mio naso E io inizio Ok? Via Perfetto 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 Ok Un'ultima volta Perfetto 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 Vorrei mi dicessi Che colore è questo qui Perfetto Perfetto E questo qui Perfetto 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 Perfetto. Quest'altro. Perfetto. Questo qui invece, che colore è? Questo qui. Perfetto. E l'ultimo colore, questo qui. Perfetto. Ma stai andando benissimo. Ma sì, questo non è un esame della vista, perciò non ti preoccupare. E appunto per cercare un po' di farti sia utilizzare gli occhi sia cercare in qualche modo di stancarli così che essi si chiudano. Ok. E un ultimo trigger che avevo pensato. Avrei voluto fare altro tracing. E questa volta ho qui con me un oggetto un po' grande di dimensioni. Infatti, ora vedrò come mostrarvelo. Ho qua con me un quadro. Guardate qua. E adesso vorrei farci un po' di tracing. Questo quadro ci tengo molto perché rappresenta appunto un dipinto di Airstopper che è una serie a cui tengo tantissimo su Netflix. E come potete vedere abbiamo questo personaggio qui che rappresenta Nick Nelson. Questo personaggio qua, quello con i capelli scuri che rappresenta Charlie e sono anche rappresentati qua in basso insieme. Scusate, è un po' difficile da tenere in generale. Poi devo anche stare attento alle luci e all'inquadratura. E li abbiamo qua sotto rappresentati come in una bolla in quanto, secondo me, con il loro amore riescono un po' a crearsi una loro dimensione in cui stare bene. E quindi qua sotto si tengono per male, invece qua sopra abbiamo Nick che dà un bacio sulla fronte a Charlie. Trovo questo quadro veramente, 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 veramente stupendo. Mi piace veramente, veramente tanto. Sono felice di averlo preso, ecco. Quindi non mi resta che dirvi Cucu, cucu, cucu. Ora tocca a voi. Iscrivetevi al canale se siete nuovi, se non l'avete ancora fatto, se per caso con questo video mi state conoscendo, se io vi sto simpatico. E soprattutto se i miei video vi rilassano per entrare a far parte di questa famiglia su YouTube che è ancora un po' piccolina. Però spero che si allargerà sempre di più che è la Ops Family e diventare così un Opsino se sei un maschietto e un Opsina se sei una femminoccia, va bene? Poi, importantissimo, lascia un bel like e commenta. Io tanto leggo tutti i vostri commenti. Il video di oggi finisce qui, ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai, va bene? Io adesso ti mando un grande, grande bacio e noi ci vediamo settimana prossima, va bene? Perfetto. 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 Grazie.